Buonasera a tutti, dunque, è buio anche qui, non sono in Italia. Benvenuti a Get Let's Version Online, ok, evento dell'11 dicembre 2018. Allora, chi è Get Let's Version? Get Let's Version è la prima community italiana sui temi DevOps e anche Application Lifecycle Management, anche se questo termine non si usa più molti. Siamo persone che arrivano da diverse esperienze, che arriva dalla programmazione, che arriva dalla gestione dei database, che arriva dal mondo dell'operation. Quello che ci accomuna è la passione su queste tematiche di DevOps e Application Lifecycle Management. Ci piace parlare di metodologie sviluppo, automatizzare i processi come le build, deployment, la costruzione degli ambienti, la gestione dello schema dei database, e automatizzare tutto ciò che appartiene al processo di creazione di un prodotto software. Il nostro focus è sulle tecnologie Microsoft, inteso come piattaforma Microsoft, che però oggi, come oggi, è molto più ampia di Windows. Stiamo parlando quindi di Azure DevOps, che una volta si chiamava Visual Studio Team Services, si chiamava ancora prima Team Foundation Server, e ha avuto ancora un altro paio di nomi. A parte questo, siamo aperti a molte altre tecnologie. Noi stessi usiamo, secondo le nostre esigenze aziendali, un mix di diverse cose. A volte abbiamo Jira, a volte abbiamo cose come i J-Meter, usiamo Apache, Maven. Dipende dal tipo di processo software su cui stiamo lavorando, dal tipo di tecnologie che ci sono in ballo, e così via. Se vogliamo il fil rouge, che è la comune, c'è sempre un qualche cosina di Microsoft coinvolto, perché questa è la nostra forza, il nostro punto di partenza. Ci piace organizzare eventi, parleremo poi di un paio di eventi che avremo quest'anno. Questo è un evento online, ogni tanto ci piace fare di questi, e spero che vi divertirete nel vedere le sessioni successive e anche le loro registrazioni, poi che potete vedere tranquillamente a vostro comodità, senza dover essere collegati in questo momento. Questa è una raccolta con le fotografie dei componenti del gruppo. Diversi di noi sono Microsoft Most Valuable Professional, 5-6 almeno. Un paio sono Visa Studio Alien Rangers, un'altra community virtuale online, questa volta non solo su scala italiana-europea, ma su scala mondiale. E un paio di noi sono anche dei professionisti che lavorano in Microsoft, sono proprio dipendenti Microsoft. Alcuni di noi li avrete conosciuti, Alessandro Alpi, Igor, Gian Maria, famosissimo su molti eventi italiani. Matteo, per esempio, è molto più conosciuto ormai in ambito della Gran Bretagna, Felice, pescatore. Insomma, non vado avanti a elencarli tutti, se no consumiamo troppo tempo. Dove potete trovarci? Abbiamo il nostro sito, gatedlessversion.it, tutta una parola, potete anche mandarci delle mail, in caso che siate interessati a comunicazioni, eccetera. Su Twitter, glv underscore it, sottolineate it. Abbiamo iniziato anche a condividere delle nostre cose su GitHub, e usiamo anche Facebook per dare notizie degli eventi che organizziamo e delle varie iniziative. Di quest'anno abbiamo già in programma un prossimo evento a gennaio, il 25 gennaio, a Roma, presso la sede Microsoft. Questo è un evento che si ripete da alcuni anni, DevOps at Work. Se volete vederci, la maggior parte di noi sarà lì. Un altro evento che abbiamo ricorrente in autunno, indicativamente verso ottobre, ma la data esatta è ancora da sentire, è DevOps Ilios, organizzato a Parma, spesso con qualche ospite internazionale, ogni anno sta diventando un evento sempre più importante. Niscossi è stato presso l'Università di Parma, l'Istituto di Ingegneria, la Facoltà di Ingegneria, e quest'anno speriamo di rinnovarlo ancora una volta. Una breve introduzione a DevOps, prima di dare lo spazio ai nostri ospiti. Si sente molto in giro parlare di DevOps. DevOps è una contrazione di development e operations. Deverem quindi si sta parlando di sviluppo, operations, si sta parlando delle persone in Italia indicate spesso come sistemisti, le persone che curano che i sistemi siano operativi e funzionanti, curano il backup, progetti di cura e così via. DevOps, purtroppo oggi come oggi, viene identificato un po' come certe cose di agile, come una figura, come un ruolo professionale, come una specifica attività. Noi ci piace pensarlo in modo molto più ampio e come una cultura che cerca di mettere in connessione quello che oggi sono entità diverse all'interno di un'IT aziendale. Perché oggi come oggi c'è sempre più una forte separazione tra mondo dello sviluppo e mondo dell'operation e questo ha portato a una serie di effetti negativi. Più grosso è l'azienda e peggiori sono gli effetti perché la burocrazia, la difficoltà di comunicazione rendono molto più costosi e lenti i processi aziendali e in un mondo come quello di oggi dove la spinta a velocizzare tutto il ciclo di lavoro dalla ideazione di una nuova funzionalità, di un nuovo prodotto software al suo rilascio nelle mani degli utenti si vuole essere sempre più breve, sempre più veloce, sempre più corto. E quindi DevOps punta nel velocizzare questo processo sia nella fase di andata e quindi con un grosso focus sull'automazione di tutte quelle attività oggi manuali che permettono il passaggio del software dalla codifica fino al suo rilascio in produzione ma anche tutto il flusso di ritorno per cui tutte le informazioni che le persone di operation sono in grado di raccogliere dagli ambienti di esercizio, dagli ambienti di produzione come log, monitoraggio, performance, metriche e così via come pure i feedback degli utenti che possono arrivare da Twitter, possono arrivare da Facebook possono arrivare da tanti canali ritornano verso le persone responsabili di gestione del prodotto software verso gli sviluppatori, verso i tester per migliorare e avere un feedback sempre più rapido sulle funzionalità che loro rilasciano. Quindi ci sono entrambe le dimensioni quella dallo sviluppo verso operation quindi da dev a ops e il flusso inverso da ops verso dev. E questo si fa con una serie di strumenti e di tecnologie amplissime perché andiamo dagli strumenti per il controllo delle versioni oramai più famoso di tutti e il più ormai diffuso è Git di cui ci parlerà tra poco Gian Maria così come processi come quelli di Build quindi strumenti come Maven, Make, Cake, Psyc, Rake c'è una quantità di cose del genere strumenti come TeamCity, come Azure DevOps e così via che ti permettono di automatizzare queste fasi e poi via via l'automazione dei rilasci e la pacchettizzazione e l'analisi della strumentazione che tu hai degli ambienti di operation e anche qua il mondo è amplissimo Elasticsearch Logstash Kibana è famosissimo ma ce ne sono anche molti altri da Zoom Monitoring Microsoft Operation Manager che mi ha dato molti nomi Prometheus e Grafana ce ne ha tantissimi non stiamo qui a elencarli tutti sul tema dell'ottimizzare il prodotto e queste fasi soprattutto dal punto di vista di chi gestisce il prodotto o gestisce il prodotto software ce ne parlerà tra poco Felice un elemento importante che non va mai perso in queste accelerazioni del processo è la qualità e sulla qualità avremo il buon Fabrizio che ci parlerà della qualità per approfondire c'è una vasta bibliografia noi in particolare vi consigliamo questi quattro libri che sono un po' delle pietre miliari per capire che cosa è DevOps i primi se vogliamo sono il volume della Pop and Dick su Lean Software Development che è del 2006 a seguire quello del 2010 di Humble and Fairly su Continuous Delivery che ha un pochettino dato la visibilità al mondo DevOps poi puoi passare a The Phoenix Project che è una specie di romanzo molto godibile in cui tutti gli informatici si ritrovano che hanno vissuto simile situazioni descritte nel romanzo e non ultimo DevOps Endbook un libro estremamente raccomandabile che offre un'ampia panoramica di che cos'è DevOps di quali processi mi devo interessare e di quali strumenti e tecnologie posso utilizzare per inventare DevOps in entrambi i flussi quindi sia nel flusso dallo sviluppo verso la produzione che nel flusso inverso della produzione e monitoraggio indietro verso chi gestisce il prodotto software detto questo vedo che siamo ancora abbastanza in tempo adesso a breve avremo le tre sessioni la prima sessione sarà di Gian Maria Ricci che ci parlerà di Git ma non come ha fatto molte altre volte che ci viene a mostrare gli internals di Git a spaccare il bit su queste cose ma ci parlerà invece di un cambio di mentalità di come possiamo passare da un sistema esistente che potrebbe essere un centralizzato come poteva essere il classico Team Foundation Version Control o più famoso CVS o SVN e passare a Git che ormai sta diventando lo standard per la gestione dei sorgenti nel mondo dello sviluppo e non solo in quello dopodiché avremo Felice che ci parlerà appunto di come cercare di ottimizzare i processi nei confronti di chi gestisce il backlog e quindi chi gestisce il prodotto dove qui è il team che gestisce tutto quanto alla fine avremo Fabrizio il nostro amico ed ex collega di Microsoft che ci parlerà invece della gestione dei test utilizzando Azure DevOps che è appunto quello che era una volta Team Foundation Server è stato ribattezzato da Viso Studio Team Services in Azure DevOps proprio recentemente un paio di mesi fa e quindi